Alle 10.40 nella mattinata di venerdì 17 marzo è scoppiato un incendio in zona Corvetto, precisamente in Vianicolo Barabino 3 a Milano, in una palazzina in ristrutturazione. Ad andare a fuoco è stato del materiale isolante che si trovava sul tetto. Il palazzo è di sei piani e per raggiungere il tetto è stata necessaria l'autoscala. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno anche effettuato l'evacuazione preventiva degli abitanti di alcuni appartamenti che rischiavano di restare coinvolti nelle fiamme. Ad operare sul posto c'erano cinque mezzi dei vigili del fuoco con le relative squadre di intervento, presenti per l'assistenza le forze dell'ordine e di ambulanze del 118 in servizio di prevenzione. Secondo una prima ricostruzione sull'accaduto, il rogo è partito dal materiale isolante del tetto dell'edificio.